E' un peccato, un vero peccato, ma la vita si sa, è come il migliore degli altri, vorresti che durasse per sempre, ma anche lui, prima o poi, si strappa. Lo vedi? Lo vedi cosa succede a non pagare? Una cosa devi metterti in testa. Questa città è mia. Tutto quello che vedi è mio. E per usare le mie cose devi pagare. Hai ventiquattro ore. Chi è stato a farvi questo? Sono stati gli uomini delle sardole. Sono loro che comandano lui. Il sarto, maledetto! E così stai cercando Davis? Ormai nessuno lo chiama più così. Si è fatto conoscere come il sarto. Si dice che chi si mette contro di lui si trovi cucito addosso un bel cappotto di legno. Dove è lui ora? Non lo so. Era in grane con la legge. Si è stabilito qui, ha corrotto la già poco ora comandabile polizia di questa città e ha cominciato a stringere il cappio intorno al collo di questi poveri cittadini. Comanda lui. Ed è così che funzionano le cose qui. Non temere. Le cose stanno cambiando. Salve! Ho bisogno di un vestito nuovo. Ragazzi, servite il cliente. John Lion! Vedo che non hai perso il tuo pessimo carattere. Devi essere infuriato per quella storia di Elisabeth. Eppure lo sapevi che sarebbe finita così. Non è stata alle regole, John. Abbarato, John. Scarpa! Non uscirai vivo da qui, John. Avresti potuto stare lontano dai guai e invece... Pazzo! Testardo! Vedo! Vedi, John? Nel gioco, come nella vita, vinco io. Poker d'assi. Scala reale. Dopo! Non uscirai vivo da qui, John. Avresti potuto stare lontano dai guai e invece... Ne organizzare il tuo consiglio. Che parla di gioco. Sapone la tua scala. La sua scala. Vedi, John. Di gioco. Comanda la tua scala. Oh. Di gioco. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.